Non capita spesso di trovare una mamma di un atleta, abbiamo qui la signora Paola Peghin, moglie di Francesco, presidente della Confindustria di Padova, ex presidente, o meglio già presidente anche di Assindustria, quindi un uomo che ha vissuto nello sport, ma questa volta vogliamo incontrare una mamma, mamma di Giovanni, che è un atleta, uno schermitore della Scherma Comini. Allora com'è questo sport? Giovanni come lo vive e come ve lo vive la mamma? Giovanni vive questo sport penso come un bambino della sua età che ha sia il gioco sia la competitività e lo sport ritengo possa essere per Giovanni una scuola di vita come dovrebbe essere per tutti i bambini che lo sport lo aiuti a crescere tanto quanto la scuola. Invece la mamma la vive come una mamma, come tutte le altre mamme, insomma, avendo gli impegni di mamma anche per portarla, accompagnarla. Si cerca di trovare il tempo per tutto perché ritengo che lo sport sia una cosa molto importante nella formazione dei nostri bambini. Bisogna riuscire a ritagliare uno spazio per lo sport perché per far crescere bene i bambini ritengo che sia necessario avere anche, dedicare degli spazi all'attività fisica per una serie di motivi che tutti sappiamo ma che tante volte per pigrizia magari cerchiamo di dimenticare. Bene, grazie, allora buon lavoro di mamma. Ok.